In post passo al Giorgiano, vediamo se la difesa aiuta, no, riapertura per Teodosic, tripla per aria, ancora avversario, 2 su 2 da 3 per il servo. Michi ruota su Criston, poi lasciato ad Huckett, nel frattempo Kane rolla in modo perfetto, grande palla di Criston. La Virtus può ancora correre, Berlinelli ci riprova da 3 punti, e mette anche questa, caldo come nella gara con Venezia. In post passo contro Figlioli, riapertura, tripla frontale, però c'è lei, ancora giocata benissimo dalla Virtus. 4 secondi adesso quando Berlinelli riceve, serve il roll di Jordan, Michi, la Virtus lavora per 22 secondi. E oggi è lei con un grandissimo canestro. Ah, perché si accoppia con Marco Bellinelli, mentre attacca l'aria pitturata. Huckett per Cenghelia nell'angolo, Wims, poi Zayderi, tocco per Wims, che giocata. Daniel Huckett scambia con Cenghelia, ricezione per Teodosic, Lobe, Cenghelia in un solo movimento. Battaglia fisica sportellata fra i due, taglio per Tony Maciura. Cenghelia, di forza, arriva fino al ferro. Demontearper invece, si sente caldo e ne mette altri tre. Wims per la tripla, spagliata, ma c'è rimbazio in attacco di Jayte, che va subito su a schiacciare. Ma Jayte dopo rimbazio in attacco preso da Bologna. Wims contro Semanch Christon, Bellinelli in avvicinamento, solo primo ferro. Matte Paut, che regala un nuovo tiro a Daniel Huckett, a bersaglio con i punti numero 3 e 4 della sua partita. Rimesa con Kandi, perso proprio da Bellinelli. Kandi prende, spara e segna. Con la bassa, vuole portare vicino al canestro De Montearper, poi va da Bellinelli, palleggio, arresto e tiro. Ormai siamo al capo tecnico, Tortona perde palla, Miki va, lo recupera Harder che lo stoppa, ma ci pensa oggi a lei, a rimettere le cose a posto con l'inchiodata sul tapin. Camara si avvicina per piazzare il blocco, cambio difensivo, Fiori rimane con Camara, chi usa il suo fisico e i suoi centimetri, lo fa molto bene. La Virtus Segafredo Bologna è la prima finalista della Coppa Italia LBA 2023, senza storia la prima semifinale, dominio totale per tutti i 40 minuti.